abbraccio a tutti 20 minuti che suonavo e non ho schiacciato play questa è la mia prima diretta mi alleno pratico medito record in e e e e e e e e Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Bello Antonio. Peace and love. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.